Il ritorno di Marco Gaspari nel suo palaverde è amarissimo, Conegliano domina dall'inizio alla fine e infligge ad una timida normeccanica il terzo schiaffo stagionale che costa carissimo per le bianco-blu. Dal primo al terzo posto con Casal Maggiore, proprio Conegliano che sopravanzano ora le piacentine e che steccano clamorosamente nel corso di un primo set a senso unico. Nella seconda parte con la Meiers infortunata in panchina normeccanica sembra reagire ma il sestetto veneto non molla di un centimetro e fa 2-0. Stessa musica nel terzo parziale con Piacenza che lotta ma non trova brillantezza necessaria per riaprire la contesa. Per normeccanica si tratta della prima caduta senza passare almeno attraverso il tie-break. Giovedì prossimo però ci sarà un altro primato da difendere, quello nel girone di qualificazione di Champions League. Alle 20.30 Marcon e compagni se la vedranno con le francesi di Lacanette.